Oh, è aperto. Ma, signorina Otori, è permesso? Io sono venuto a vedere... Direttore. Mi ascolti, direttore. Devo dirle una cosa importante. Può dedicarmi un po' del suo tempo. Sono stato così oberato di lavoro. Da non sapere più cosa significa vivere. Cosa significa essere umani. Non capivo più perché stessi lavorando. Per questo motivo, anche se trovo molto difficile dirlo, a partire da oggi ho deciso di dimettermi dalla sua azienda e di riprendere in mano la mia vita. Mi ha sempre fatto da guida, nonostante le mie numerose carenze. E voglio davvero ringraziarla di cuore. Riconosco che le mie motivazioni sono egoistiche. Ma lo prego, non dimeno di accettare la mia richiesta. Le auguro di avere successo in potenza! No! 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 No!